Io propongo nei miei workshop di fare delle cose molto difficili perché in realtà queste cose difficili ci aiutano a fare questo viaggio alla nostra caverna o all'interno di noi stessi. Anche fisicamente realizzare un autorritratto è proprio un'acrobazia. Cioè perché? Perché non sai come mettere a fuoco, hai bisogno forse di un'altra persona che si metta lì, non vedi quello che stai facendo, dove piazzi la macchina fotografica se non hai il cavalletto devi magari... Cioè e poi per di più magari ti si spara il flash, cioè se non sai fotografia comunque è una fatica. È una fatica che alle volte poi ti immagini anche che vuoi fare una certa immagine di te e devi anche salire su un coso. Cioè ha una certa acrobazia fisica già solo nel fare un autorritratto, no? Tranne che adesso effettivamente i telefoni facilitano le cose e non sanno come sbagliano, cioè ti mettono la possibilità di vederti nello specchio mentre ti fai il selfie, no? Ma in realtà l'autoritratto è un'acrobazia in tutti i sensi, anche interiormente, perché se noi non facciamo, quando ci autorrappresentiamo, non cerchiamo di fare qualcosa di difficile per noi, qualcosa di perturbante, affrontare delle cose che non ci piacciono, no? Se noi non facciamo questo, perdiamo la possibilità di permettere alla nostra interiorità di esprimersi. Cioè il processo creativo si scatena a partire da ciò che la nostra interiorità ha bisogno di esprimere. Questa condizione dell'adolescenza, di questa vulnerabilità e questa incertezza e questa insicurezza e questo essere in divenire, perché sono la condizione perfetta per l'autoritratto? Perché in realtà il processo creativo ha bisogno di una condizione proprio di questo tipo. Cioè il processo creativo ha bisogno di... che noi ci perdiamo, non possiamo controllare, no? Quindi ha bisogno di questa vulnerabilità. In realtà quando io dico che noi in questo metodo convertiamo la merda in diamanti, potrei anche dire che noi convertiamo vulnerabilità, insicurezza, incertezza della propria identità, in diamanti. Quindi per merda intendo anche questa condizione qua, no? e quindi anche i brufoli, ecco, li convertiamo in diamanti. Tutto questo metodo, tutto il mio lavoro, anche quello artistico, cioè come dire, il lavoro che sto proponendo alle gallerie, è un lavoro basato proprio sulla mia merda. Quindi proprio è stata la mia merda a portarmi fin qua e è stata la mia merda che si è convertita in diamanti, questo è chiaro. Quindi in realtà quello che io propongo ai ragazzi è proprio di usare ciò che, cioè la propria merda intendo ciò che ci dà fastidio, ciò che non ci piace di noi, ciò che, le cose che facciamo male, le cose che vorremmo cambiare. Io quando ero piccola e quando ero adolescente e anche fino a relativamente poco, cioè anche fino ai 30 anni, come dire, io ero convinta che c'era qualcosa in me che non andava, no? Perché? Perché sono egocentrica, sono egoista, sono impulsiva, mi diceva mia madre, sono, cioè tutta una serie, troppo emotiva, eccetera. Quindi tutti questi difetti, in realtà, che io ho fatto secoli di analisi pensando che magari si potevano eliminare, ovviamente non si possono eliminare, quello che possiamo fare semmai è innanzitutto accettare che ci sono, però ancora meglio, in realtà, quello che possiamo fare è usarli per scatenare il processo creativo e convertirli in opere, quindi a partire da quella roba lì, quella roba che dà fastidio, di cui ci vergogniamo, quella roba proprio che vorremmo non avere dentro di noi, proprio quella roba lì è quella che è la nostra vulnerabilità, che in realtà diventa un veicolo comunicativo, perché attraverso questa espressione di queste emozioni, no, che, cioè diciamo, l'esercizio delle emozioni che io propongo con una serie di istruzioni aiutano ai ragazzi e alle persone, anche adulti, anche a me, eccetera, ci aiutano a entrare in contatto con tutta questa merda, no? E a partire di questo, siccome poi normalmente il nostro inconscio cerca di, o no, non il nostro inconscio, normalmente noi cerchiamo di coprire quelle parti perché ci rendono più difficili le relazioni, il nostro essere nel mondo, eccetera, in realtà coprendoli queste cose qua, questi aspetti qua hanno una potenza incredibile, no? Hanno più potenza che nient'altro, no? Nella nostra interiorità e quindi in realtà hanno bisogno di uscire, hanno bisogno di espressione, per cui quando noi con l'autoritratto che in pratica nell'autoritratto siamo autore, soggetto, spettatore e c'è questa dinamica potentissima di sguardi e relazioni tra questi tre ruoli, questa dinamica sollecita l'inconscio, cioè sollecita la nostra interiorità a parlare e questo inconscio, questa interiorità parla con il linguaggio dell'arte, cioè quindi scatena il processo creativo e tira fuori in questa immagine oggi ciò che doveva venire fuori oggi, ciò che eravamo pronti a vedere oggi, ciò che oggi dovevamo sapere, quindi la saggezza assoluta della nostra interiorità fa tutto, quindi semplicemente quello che dobbiamo fare è diciamo creare le condizioni ideali perché questo processo possa avvenire e quindi dobbiamo essere da soli, dobbiamo guardare dentro, dobbiamo non cioè non dobbiamo controllare o voler direzionare la nostra espressione verso cose che la nostra testa vuole ma invece dobbiamo aprire al processo creativo e fare sì che il nostro inconscio tiri fuori ciò che deve tirare fuori che noi non lo possiamo sapere e infatti tra l'altro dopo guardiamo le immagini e noi non ci riconosciamo è normale perché se questa roba qua era nell'inconscio e non la conoscevamo non la possiamo neanche conoscere nell'immagine ma in soli 5 minuti 10 minuti che possiamo guardare in profondità quell'immagine coprire un lato del volto e vedere quali sono le emozioni che vediamo quali sono i pensieri quali sono gli atteggiamenti e poi guardiamo l'altro lato del volto e vediamo quanto è diverso perché un lato è il lato delle emozioni è il lato dell'introspezione è il lato del passato è il lato femminile mentre quest'altro lato è il lato invece del futuro della strategia della mente del pensiero dell'intelligenza della saggezza e la parte anche maschile quindi queste due parti interagiscono quindi percepiamo in 5-10 minuti che guardiamo queste immagini possiamo poi ovviamente riprendere possesso di questo altro da me che è venuto fuori e conoscerlo e conoscerlo conoscerlo con la C maiuscola quindi entrare proprio in intimo dialogo e rapporto con questo altro da me e ce ne sono tantissimi altri da me però oggi è venuto fuori quest'altro da me non mi riconosco anzi mi dà fastidio benissimo non la buttiamo questa immagine che esprime tutte queste cose fastidiose perturbanti ma invece diciamo no perché io so che in 5-10 minuti se la guardo bene cambierà totalmente la mia percezione di questa immagine e quindi cambierà anche la mia percezione di me stesso quindi alla fine diremo wow che ricchezza che ho dentro ho anche quest'altro e poi quest'altro e poi quest'altro cioè una potenzialità enorme quindi impariamo che cosa vuol dire la molteplicità umana la plasticità meravigliosa dell'identità umana non rimaniamo ancorati in un'idea che abbiamo deciso di noi stessi nessuna di queste immagini ci definisce o ci etichetta è proprio un lasciar fluire tutte le possibili espressioni del sé iniziando dalle più terribili iniziando da quelle che danno più fastidio iniziando da questa merda perché in realtà poi è proprio questa merda che se gli viene permesso di esprimersi in realtà il processo creativo cioè questo linguaggio dell'arte con cui parla è sublime è perfetto cioè in una serie di immagini vediamo una con una forma una geometria degli elementi che sono sorprendenti e che il soggetto non ha assolutamente potuto decidere di mettere così o colà ma è qualcosa di sorprendente che viene dall'inconscio e che è sublime in una serie di immagini che viene dall'inconscio e che viene dall'inconscio e che viene dall'inconscio e che viene dall'inconscio